L'Università degli Studi di Bergamo ha conquistato un nuovo record nelle immatricolazioni. Sì, abbiamo atteso la divulgazione di questi dati perché il lunedì 13 era l'ultimo giorno utile per le immatricolazioni alle lauree triennali. Quest'anno il dato è comparabile in parte rispetto a quello dell'anno scorso perché abbiamo per la prima volta inserito anche nelle lauree triennali alcuni numeri programmati, quindi alcuni corsi di laurea erano numero chiuso, quindi che sono stati fortunatamente saturati ma l'aumento è complessivo di circa 1200 studenti in più per cui quest'anno un primo dato assestato porta a 7600 immatricolati. Questo ci porta a dire che il dato finale complessivo che ogni anno si stabilizza alla fine dell'anno solare ci porterà a 25.000 studenti. Questo è un dato per noi importante per due motivi. Il primo perché ci dà la conferma della fiducia nella nostra università da parte dei ragazzi, delle ragazze, delle famiglie e quindi i nostri messaggi anche di sicurezza, di qualità, di diversificazione dell'offerta formativa sono stati colti. Dall'altro lato impegna anche ovviamente a migliorarsi, a migliorarci per il futuro ed è un futuro che passa inevitabilmente attraverso la interdisciplinarietà. I nuovi corsi di laurea che abbiamo riprogrammato in questi anni sono andati tutti nella direzione proprio della trasversalità e questo messaggio anche a livello nazionale perché sono incrementati anche, lo sottolineo, gli studenti che sono provenienti da fuori regione. E quindi il dato da un lato ci rende orgogliosi, dall'altro lato ci responsabilizza per continuare su questa strada che è una strada che individua di fatto un ateneo che con una formula che è diventata a noi molto cara ha i piedi nel borgo ma soprattutto la testa nel mondo. Questo è il messaggio che questi dati così positivi oggi ci consegnano. Inoltre sono stati nominati cinque nuovi direttori di dipartimento. Sì, ieri si sono celebrate le elezioni di questi cinque nuovi direttori. Quattro sono riconferme. Una è una novità, il professor Franco Giudice che subentra il professor Giannetto alla direzione del Dipartimento di Lettere, Filosofia e Comunicazione. Sono stati invece riconfermati la direttrice del Dipartimento di Lingue, la professoressa Bonadei, il direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, il professor Marco Lazzari, la professoressa Barigozzi, direttrice del Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate e da ultimo la riconferma anche della professoressa Elisabetta Bani, quale direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza. Ho augurato a loro un buon lavoro e soprattutto la sicurezza che l'Ateneo non solo li ringrazia per la disponibilità a essersi messi e rimessi in gioco, ma soprattutto si inizia tra poco un nuovo anno accademico con una governance, almeno nei dipartimenti, nuova.